... Torna la festa dei quattro altari a Torre del Greco, come vive questa serata? Dopo 16 anni è cambiato tanto in questa città, però riprendere una festività che raccoglieva comunque tante persone, dopo tanto tempo è un segnale importante e quindi speriamo che questo possa essere un segnale per un nuovo inizio, per tutti, una rinascita e una condivisione di momenti belli. Quindi ne avevamo bisogno di questa festa? Sì, delle feste c'è sempre bisogno, dei momenti di gioia, delle feste familiari e diciamo che questo possa essere soprattutto un segnale di una nuova familiarità cittadina. Sono molto contenta perché è tanto tempo che non si faceva e la desideravamo anche perché è un momento culturale molto molto importante, perché anche le sue radici, insomma, è bello e poi ci fa ricordare un po' la nostra infanzia. Quando eravamo ragazzi venivamo qui e la vivevamo, eravamo felici, insomma, era una bella festa. E poi la nostra città ha bisogno di questi eventi, soprattutto durante l'estate. È bello vedere la gente per strada, incontrarsi, è bello, è ben organizzata. Da la festa dei quattro altari riparte la cultura a Torre del Greco. Sicuramente, sicuramente la cultura è la prima cosa. Tra mandare ai giovani la storia e le tradizioni. È importante per i giovani affinché possano portare avanti queste tradizioni e non devono essere dimenticate né lasciate. Mancava questa atmosfera, che è bellissima, Torre sta rinascendo, un po' di pazienza da parte di tutti quanti, un po' di civiltà e andremo avanti. Ci voleva, dopo tanti anni, veramente è stata una sorpresa, grazie al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale. Cosa rappresenta per Torre del Greco la festa dei quattro altari? Per chi già l'ha vissuta? Eh, vabbè, noi da piccoli abbiamo sempre vissuta, noi uscivamo sempre, tutti noi ragazzi, quindi veramente entusiasmante. Sentiva la nostalgia? Sì, nostalgia, sì. Infatti è una cosa che veramente ci ravviva. È una bella emozione, dopo tanti anni, è bello, insomma, è una bella cosa. Tornare alle tradizioni di una volta, anche, è una bella emozione. Le piace, è bello? Sì, è bella. L'altare qui in piazza le piace? Sì, molto, molto bello. È molto bello e si ritorna indietro negli anni. La festa dei quattro altari e l'immacolata sono i due simboli di questa città. Noi veniamo da Forlì, siamo tornati, viviamo fuori da dieci anni e siamo venuti giù apposta. E come l'ha trovata? Le piace? Beh, certo, è sempre emozionante. Poi venire giù con i bambini e portare loro in giro, dove siamo nelle nostre strade, con le nostre tradizioni, è tutta un'altra storia. Bellissimo, bellissimo. Una sensazione, un'emozione dopo 16 anni si doveva. Veramente grazie, grazie al sindaco. Bellissimo, tutto bello, grazie. L'altare qui in piazza è emozionante. È emozionante, anche l'altare lì, il tappeto lì a San Filippo Neri è fantastico. Anche questo è stupendo. È veramente molto realistico. Cosa rappresenta per un torrese la festa dei quattro altari? È un pezzo nostro che mancava. Mancava proprio la nostra vita. Infatti alle mie ragazze lo raccontavo per viverla è diverso. È un'emozione grandissima, dopo 16 anni, a vedere una piazza illuminata con questo videomapping. Una novità, diciamo. Poi soprattutto l'altare. L'altare è qui a piazza Santa Cruz. Non si è mai visto. Che giustamente sostituisce quello a Cimammese e Ancheidane, diciamo, come diciamo noi torresi. Poi a Palazzo Baronale. Sono via da Torre del Greco da 50 anni. E dopo tanti tanti anni che... Ed è tornata per vedere la festa? Sono tornata per vedere la festa. Mi hanno detto proprio che si ricontrollava di nuovo la festa dei quattro altari. E le piace stasera quello che vede? Sì. Meraviglioso. È un bel ritorno. Ecco, dopo tanti anni era giusto, diciamo, ritornare alle tradizioni. Si sentiva la nostalgia? Un po'. E sembra essere anche, diciamo, un attimo più compito tutta l'organizzazione, più, diciamo, composta, poche bancarelle. È da apprezzare. Diciamo, guardiamo i quadri degli artisti, gli altari e tutto il resto. Non pensiamo a cose più futili. Siamo contenti. Almeno per noi che ce la ricordiamo. È una bella cosa. Si sentiva la nostalgia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Per Torre, che è una città così bella, era una cosa che richiamava anche persone da altri comuni vicini. Siamo felici che sia tornata di nuovo la nostra festa, perché è la nostra festa. Le piace il clima, l'atmosfera? Siamo tutti insieme, viviamo in una bella atmosfera, senza litigare, diciamo così, dai, in serenità e in spensieratezza. Del resto il tema della festa è proprio la pace. Certo, speriamo che sia davvero una giusta pace per tutti. La ricordo da bambino, siamo con dei ricordi bellissimi e fortunatamente dopo tanti anni il sindaco ci ha onorato, è la nostra bellissima festa, siamo contentissimi. Ci riporta un po' indietro nel tempo, quando eravamo più ragazzi, che era una festa per tutta la cittadinanza. È una festa torrese. Gli altari e i tappeti le sono piaciuti? Molto, molto belli. Sono grandi artisti. Torre dei Grech è piena di artisti. E questo è un nostro vanto. E lo dobbiamo mettere in atto e uscire fuori anche dal comune e far conoscere questa festa. Perché è una gran bella festa di tutto il popolo torrese. E questo è un'altra festa.